Al di là del test a me interessava più vedere la settimana di lavoro che è stata veramente un'ottima settimana, grande disponibilità da parte dei ragazzi e penso che sia la cosa più importante. Al di là del fatto che oggi avevo piacere che ricercassero un po' quelle trame, quelle giocate che avevamo provato in settimana e devo dire che ci hanno provato. Anche per il tipo di partite che andremo a fare è più facile che offendere invece che difendere. Devo dire che i ragazzi stanno ricercando con costanza quello che sono i miei movimenti, ovviamente sono cambiati per tanti di loro perché erano abituati a giocare in maniera differente, ma vedo veramente da parte di tutti grande disponibilità e la voglia di riportare quello che proviamo.